Il ruolo delle figure di garanzia nel tentare di assicurare un'esecuzione penale costituzionalmente orientata alle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Il tema, quanto mai attuale, è stato affrontato in Sala Argento. Lo slogan col punto interrogativo, marcire in carcere, noi lo rivoltiamo dicendo attenzione perché la soluzione facile e apparentemente semplice del tipo prendere una persona, chiuderla in un luogo e aspettare che passi il tempo è una soluzione che non risolve il problema, lo inasprisce e ci restituisce in società persone che non hanno fatto un percorso individuale di cambiamento.